La soddisfazione in casa Elephants Catania per la convocazione nazionale di alcuni atleti catanesi in occasione dell'amichevole contro la Serbia. La Blue Team ha accolto in maglia azzurra il wide receiver Gregorio Barbagallo, l'offensive line man Giulio Romano e gli ex Elephants Catania Davide Giuliano in veste di head coach e il team manager Salvatore Persano. L'amichevole contro la Serbia disputata all'Ignano è da considerarsi un test match per l'head coach Davide Giuliano in preparazione degli europei del 2016. L'Italia in una partita sostanzialmente equilibrata ha perso 34 a 31 in quattro quarti di gioco dove sono state provate dal coaching staff le varie soluzioni tattiche e di roster per i reparti d'attacco, di difesa e per i reparti speciali davanti ad una Serbia che si è mostrata organizzata e con delle interessanti individualità. Per gli Elephants Catania è motivo di orgoglio registrare la convocazione del wide receiver Gregorio Barbagallo, protagonista di un'eccellente partita e di alcune ricezioni importanti per sbloccare il risultato degli azzurri. E anche la convocazione dell'offensive line man Giulio Romano che è sceso in campo per tutta la partita è davvero un motivo di grande orgoglio per la squadra catanese. Perdere non è mai piacevole ma in un test match più del risultato finale è importante provare determinate meccaniche di gioco, vedere cosa funziona e cosa non funziona, fare ruotare tutti i giocatori e trovare i punti deboli così da essere pronti per le partite che contano. Inoltre la maggior parte degli atleti italiani in questo momento è in fase di off-season, al contrario la Serbia si è presentata atleticamente più pronta. Ma la nazionale italiana sta sviluppando un buon programma e la convocazione di atleti preparati ed affidabili come quelli degli Elephants Catania è una garanzia affinché la Blue Team italiana sarà pronta ad affrontare le prossime sfide.